Cioè, se Di Maio cambia linea, voi vi sedete al tavolo di un governo o no? Lui ci mette la faccia, ma non può essere qualche sacceffone quando torna dal partito. Ma no, il problema... Capisco la domanda. Vedi perché venire da formiglie di grande utilità? Perché prima che lei arrivasse è andato un servizio in cui, in maniera anche un po' gradassa... Bellissimo. Sì, abbiamo già fatto il governo, parlavano i ministri, adesso sono cavoli del PD, ci divertiamo un po' a guardare. Sa cos'è? Che la politica si fa anche con il rispetto, con il dialogo. E allora quando imparano a stare a sedere, perché se no a questo giro facciamo lo streaming e poi lo faccio io, la Lombardi e Cremì. La faccio io a sbeffeggiare il segretario di un partito, di una forza parlamentare. Allora, Peruccio De Bortoli, bisogna imparare a stare al mondo. Rapidissimi, Peruccio De Bortoli, voglio chiederti un'altra...